Marco Infussi Come al solito, non per fare il bastian contrario, però un pizzico devo dissentire. I megaprogetti sono stati messi in piedi. Esiste una società aeroporti per la quale sono stati spesi 6 milioni 470 mila euro per pezzi di carta, che non esiste nella realtà. Scendiamo nel reale. È un investimento concreto. Io capisco quanto sia, e non posso rivolgermi a Gargani perché giustamente si trova in una posizione in cui non si può esprimere, quindi scusami se dico questa cosa. Però con le priorità di oggi non è possibile investire quasi 7 milioni di euro in un'idea che poi molto probabilmente si andrà a configurare nella solida speculazione all'italiana, diciamolo questo, in cui c'è la sequela, piano regolatore, esprime dei terreni, tutto edificabile, c'è l'impermario. Però sono 7 milioni di spese, eh sì, può finire così anche con lo spostamento della stazione di Frosinone. Parliamo anche dei paesi limiti, perché poi queste cose si estendono, non è che riguarda solo tutti. Sposteranno la stazione di fronte all'aeroporto, tutta la zona stazione Frosinone sarà nuovamente verificata, attenzione, è un progetto grande. Per me ci sono altre priorità. Grazie a tutti.